FAND Occupability è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1259-2022, totalmente gratuito, organizzato e promosso da FAND, ANMIL e ANMIC, ENS, WICI, UNMS, con l'aiuto e la professionalità di oltre 100 cooperative del territorio. Il progetto è un insieme di percorsi e di strumenti finalizzati all'occupabilità e diversamente declinabili a seconda delle caratteristiche e delle esigenze di quanti sono alla ricerca di opportunità lavorative. Un percorso innovativo per persone disabili in cerca di lavoro, iscritte o in fase di iscrizione al collocamento mirato, secondo quanto previsto dalla Legge 68-1999 e per giovani con disabilità certificata, ai sensi della Legge 104-1992, in entrambi i casi residenti o domiciliati nel territorio dell'Emilia-Romagna. Il progetto, infatti, si articola su tutte le nove province del territorio. Fund Occupability si pone come obiettivi quelli di Implementare l'occupabilità Contrastare gli elementi di contesto che determinano condizioni di esclusione e discriminazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro Potenziare l'integrazione delle persone disabili e a rischio di emarginazione sociale con azioni individualizzate o collettive per il loro inserimento nel mondo del lavoro Incentivare l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disabili attraverso percorsi integrati che prevedano l'adozione di diversi strumenti di politica attiva del lavoro Accompagnare gli utenti nelle attività formative e o lavorative che si svilupperanno in base al progetto Collaborare con le altre misure esistenti Chiunque fosse interessato a partecipare al progetto o avere maggiori informazioni